Stupita ambulanza e vigi urbani, incidente a stradale. La persona è a terra e non si muove. Questa è una ricostruzione effettiva di quanto accade nella realtà. Nella realtà talvolta accade molto di peggio. Facciamo un appello ai giovani affinché facciano attenzione a condurre i veicoli con una velocità moderata, senza fare uso di sostanze alcoliche né droghe. Abbiamo adorito come comando generale della Polizia Locale di Roma Capitale a questo progetto proposto da Marco Petruzzelli per sensibilizzare i giovani affinché facciano un buon uso dei veicoli che conducono, sia veicoli, sia autovetture che motocicli. Questa è una delle sequenze che proporremo su questo corso di guida sicura proposto su YouTube proprio per far comprendere come in realtà le conseguenze di questi incidenti sono molto gravi. Purtroppo sono dolori in questo caso per tutti, sia per le famiglie che per i giovani che o rimangono feriti gravemente o talvolta le conseguenze per loro sono mortali. Queste scene che riguardano il corso di guida sicura ovviamente sono state girate con stante avendo a bordo dei veicoli che chiaramente sono dei professionisti e garantiscono sicurezza per loro e per la circolazione stradale. Il comando generale della Polizia Locale di Roma Capitale fa ancora una volta un appello affinché sia i giovani sia le famiglie si faccia attenzione alla conduzione dei mezzi durante la circolazione.